Assemblea sindacale nella sala riunioni della direzione sanitaria dell'ospedale Spock di Locri. Tanti i temi presenti, dalle problematiche relative ai buoni pasto, produttività, la vestizione, ma soprattutto il coordinamento ostetrico e gli incarichi di funzione. Ad organizzare l'incontro il sindacato autonomo Nursing Up di Reggio Calabria. Noi abbiamo convocato a questa assemblea dei lavoratori, cosa che non avveniva da tanto tempo qua all'ospedale di Locri, per informare riguardo la situazione che si è creata nell'Aspide Reggio Calabria. È una situazione un po' complicata, direi, dove noi stiamo giocando in tutti i modi di dialogare con il managgimento aziendale, soprattutto riguardo le questioni che ci sono in corso, a partire dai buoni pasto, dove praticamente c'è stato un accordo che a nostro avviso è stato disatteso per tutta una serie di motivi. E quindi siamo qui a informare i lavoratori, così come altre cose che stanno avvenendo e che assolutamente vanno in una direzione sbagliata, in una direzione del non dialogo, della non considerazione delle forze sindacali, di chi rappresenta i lavoratori. E quindi siamo sulla strada sbagliata. Ci sono tanti problemi, non ci sono relazioni sindacali, l'Asp non ha ancora costituito la delegazione trattante, non si può fare contrattazione e questo è tutto a danno dei lavoratori.